dirette. Massimo Rosa, fratello minore di Diego, grandi emozioni qui a Corneliano d'Alba in piazza Cottolengo. Non è andata come forse avremmo sognato, però c'è da dire che Diego ha fatto le Olimpiadi ed è questo comunque un grande risultato. Cosa vuoi dire da fratello di Diego? Sicuro, come hai detto te, fare le Olimpiadi è una cosa che pochi possono avere l'esperienza di fare. Io ero sicuro che non poteva esserla giù a giocarsi le Olimpiadi, perché comunque il risultato doveva farlo Nibali e Fabio Aru. Sicuramente ha dato il meglio di sé, è andata benino per l'Italia, si poteva andare meglio, però dai, sicuramente lui ha dato il meglio di sé. Ha lavorato tanto anche questa volta per la squadra? Sì, diciamo che non era l'uomo di punta, quindi era un uomo importante per portare Nibali e Aru alla vittoria. È successo quello che è successo, peccato per la caduta, però è il ciclismo, non possiamo andare sicuramente. Una tappa della carriera di Diego, quale futuro può ancora avere con me? Guarda, lui è in piena carriera, quindi non si sa ancora se potrà diventare un capitano, se potrà diventare un grande gregario. Lui sono sicuro che ci vuole provare, ha la grinta e le qualità per farlo, vedremo se riuscirà. Sicuramente l'obiettivo è centrare un podio in un grande giro, che sia giro, vuelta, giro. Grazie, prego. Grazie.